Sì, quello lì sicuramente, perché non abbiamo fatto un buon primo tempo, erano andati in svantaggio, ma siamo comunque tornati nello spogliatoio, il mister ci ha caricato, ci ha detto che avevano ancora possibilità di riprenderla e quindi, ripeto, è un punto che ci dà un grosso spessore perché comunque sia a due partite a termine abbiamo un buon margine per la zona salvezza e quindi doppiamente contento. Luca Valzania è l'uomo in più di questo Pescara, soprattutto in questo girone di ritorno. Ricordiamo anche, Luca, quello che è successo a gennaio quando stavi per andar via, poi hai detto no, voglio restare a Pescara. Ti aveva richiesto il Carpi, sembrava fatta per il trasferimento in Emilia, sei voluto restare, sei stato l'uomo decisivo in questo girone di ritorno. Non sei di proprietà del Pescara, ma ti chiedo, sarebbe per te, saresti felice di continuare questa avventura in riva all'Adriatico la prossima stagione? Allora, sì, sicuramente un girone d'andata ho avuto qualche difficoltà nel giocare, verso la fine avevo trovato un po' più di spazio e anche qualche gol e quindi per quel motivo lì, visto che mi sentivo comunque cresciuto e pronto a giocarmela, sono voluto rimanere perché avevo sposato questa spiazza, questo progetto e quindi a tutti i costi sono voluto rimanere. Ti dico la verità, ora il mio obiettivo è arrivare alla salvezza matematica, prima di tutto poi, essendo di proprietà dell'Atalanta, cercare di giocarmi un posto sulla Bergamo. Poi se in un modo o nell'altro l'Atalanta pensa che ancora magari debba fare un altro campionato in B, penso che Pescara sia la prima piazza che mi rivolgerò e che cercherò di tornare. Insomma, questa è la dichiarazione da titolo domani sui giornali, o l'Atalanta o Pescara non si scappa. Adesso non lo so, però comunque sia, mi sono trovato una bella stagione a livello personale, sono contento e quindi sicuramente sono contento di questa stagione, mi sono tra regolette affezionato nel senso che sono stato bene quest'anno e quindi sicuramente magari rispetto ad altre piazze, non dico che è a un punto in avanti, nel senso verso magari scelte, però il calcio alla fine non si sa mai come va, quindi non lo so, però sicuramente a Pescara ci ritornerebbe volentieri. Quindi se non sarà Serie A con l'Atalanta sarà sicuramente Serie B con il Pescara, ma parliamo un attimo di questo finale di stagione, come hai detto tu c'è da conquistare matematicamente questa salvezza, però da quando è arrivato Pillon stiamo vedendo un altro Pescara e oggi in questa gara double fast, nel secondo tempo abbiamo visto una grandissima reazione del Pescara. Sì, sì, come ho detto prima, al primo tempo non è stata la nostra altezza, soprattutto rispetto alle ultime gare che hanno fatto bene, hanno fatto molto bene secondo me da quando è arrivato il mister, abbiamo ritrovato serenità, abbiamo ritrovato voglia di giocare. Non è che prima non eravate sereni con Epifani e ancora prima con Zeman? No, non è che non eravano sereni, però magari a volte ci capitano situazioni nel calcio che non dico che ci vuole una scossa, però da quando è arrivato il mister ci ha lavorato molto più anche a livello di test, di concentrazione, che magari prima non avevamo, tutto lì poi sono situazioni che capitano e anche noi magari a volte facciamo fatica a spiegare. Tutto lì. Ripeto, secondo tempo siamo entrati in campo con la consapevolezza di andare a pareggiare, ci abbiamo provato anche a vincere, ci è andato sfortunato qualche rimpallo in aria, che è qualcosa che magari poteva capitarci e portarci la vittoria, però è un punto che vale doppio. Ti chiedo un'ultima cosa, prima di lasciare spazio a Mancuso che sta arrivando in MX Zone, se ci racconti il call, la chiamata all'1-2 con Brugman e quel sinistro che è terminato dove doveva. Sì, ho visto che mi ha giocato palla a Brugman, ho cercato di puntare l'uomo, poi ho chiesto l'1-2 a Pettinari e quando ho tirato il sinistro, inizialmente quando ho preso il palo ho detto che ritorna nelle braccia del portiere perché ero proprio in linea d'aria e l'avevo vista male, e poi ho visto che invece prendendo il pallo è andato in porta e quindi sono andato subito a risultare con i miei compagni.